L'attenzione del mondo sulla Turchia dove si è appena concluso l'incontro tra il ministro degli esseri russo e ucraino Lavrov e Kuleba per trovare una soluzione al conflitto. In precedenza entrambi avevano avuto un colloquio con l'omologo turco al termine del quale il capo della diplomazia di Ankara ha spiegato che l'obiettivo è quello di organizzare un faccia a faccia tra Putin e Zelensky con il presidente Erdogan a fare da mediatore. In viaggio verso Antalya anche il direttore della IEA Grossi, invitato dal ministro degli esseri turco per discutere della questione urgente di garantire la sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina. Grazie